Ipercop La faccia vedere L'ho già assaggiata ed è ottima E l'esperienza che ce lo dice Che sapore ha Si sente il pomodoro Che meraviglia ragazzi Il profumo si sente L'esperienza ragazzi che meraviglia Queste si chiamano testimonianze autentiche Allora oggi pasta poco E sugo assai E sugo assai ragazzi Che meraviglia Allora oggi stiamo aspettando l'apertura dello stand Se noi ci facciamo un stand Il nostro stand caro Giacomo Ecco Giacomo Queste sono le straordinarie Testimonianze vere Testimonianze vere del gusto E del sapore che televisivamente Non si può sentire quindi devono obbligatoriamente Assaggiarla Allora quando il signore Dice il profumo Il profumo sapete perché? E' pimmaduro C'è solo l'acqua del pomodoro Fate questa prova Facitela questa prova Fatela questa prova E' importante Per quei pochi Che ancora Non l'hanno assaggiata Hanno il gusto Delicato E quelli che non l'hanno ancora assaggiata Perché il gusto viene comunque sempre Con le cose buone E questo ci piace Sottolineare La signora ci sta facendo No Ho visto come si è storta però N'ha fatto un video E non la fa Buongiorno Venga Un saluto Un saluto Solo un saluto Solo un saluto Per dire se lei l'ha assaggiata Solo se l'ha assaggiata No Vieni Perché ci fa così? Mi fai sentire male Vieni Un secolo Dai Grazie amico mio Grazie Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Guarda quanto si è bella Vieni qua A noi ci hai ripreso Vieni qua Però com'è Le ci seguono Solo un secondo Ci seguono Come è la sassa Com'è la sassa Buonissimo Buonissimo No Lo devi dire però E' buona E' buona E' buona E come dice il zio Pino Pasta Pasta poco Su Cassai Che meraviglia Pasta poco E su Cassai Guarda che meraviglia ragazzi Ma un nego di cui Buongiorno Ah tu che sei del settore Del settore Vinicolo E agrovinicolo Com'è questa cosa Io l'ho assaggiata A dire la verità Già due volte Ed è ottima Lui fa del vino Meraviglioso Ed è Sono avuto apposta D'algerico Per prendere la salsa E ti dico la verità Non sto scherzando No Che scherziamo Usaci E quindi ragazzi Io ne capisco Cioè Credetemi Io Non devo convincere nessuno E' semplicemente Un invito E' il prodotto Che convince Il prodotto finale Che convince Come tu sei bene Quando bevi Quando Il vino Cioè Lui dice Assaggiate il mio vino Se ti piace il vino Ti bevi il secondo bicchiere Se no Niente Lui fa da mangiare Caro Giacomo Vedete Allora Tutti i ristoratori Dovete Venire Dovete far mangiare I vostri clienti In un modo Educato Educato Gentile Perché Significa che No Prodotti solo Calabresi Puro Calipo Ci ha menato Amminaccello Puro che è un amico Calipo Però Si è stato con me A Toronto Grande Calipo Deve venire con noi Per fare pubblicità Pubblicità Non è La nostra Non è pubblicità Assolutamente E' semplicemente Un invito La pubblicità La fanno gli altri Non ho zio Pino Io ho un invito In bocca al lupo Ragazzi Altrettanto Buon lavoro Buongiorno signor E che bella cosa Stamattina Cybercop Buongiorno 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 Posso? C'è un biondo Ragazzi Che meraviglia Ragazzi Che meraviglia Siamo già Puscenti Però O no Katia Chi è Katia? Buongiorno Come sta? Cara signora Buongiorno Un sorriso così Ce lo possiamo perdere Buongiorno Attenzione A chi entra il prodotto Stamattina Si è già stancato Signora Come stai? Bene Tutto a posto Grazie Dunque Lei L'assaggiata Sassa da la nonna? No Sinceramente no La verità La verità Lo vuoi assaggiare? Perché no? E' là Lo stand Non è pronto Lo stand Buongiorno Basta Poto No Nel senso Tu che fai? Hai compratto No Giusto una passeggiata Ma iper coppia Iper coppia Iper coppia Ci fare coppia Mi piace Grazie Buona stessa Grazie Lei ci segue sempre Sì Sempre Per mettere signora Tutti i giorni Vi voglio bene Vi amo Grazie Allora ragazzi Io ritorno Nel nostro Perché vi ripeto Questo è il primo giorno Ragazzi Sono le prime ore del mattino Ecco qua Vedete 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 No Infatti l'ho presa Aspetta Aspetta No A noi ci piacciono La testimonianza che l'ho assaggiata E' una testimonianza nuova Ecco Poi me lo fa sapere Sulla mia pagina Appena ho gigliotto Perfetto Va bene Va bene Grazie 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 La prossima volta Non apri bottiglie Così le facciamo provare al volo Sì Sì Ogni giorno lui c'ha queste trovate Ma non va a niente Allora Signora Buongiorno Venga 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 Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Abbiamo una bottiglia Perché a Milano la bevono Ma che sa Devono bere la salsa nostra Alla salsa della nonna Buongiorno L'hai assaggiata? C'è noto Ah c'è noto Ok Allora aspetta Chiuda L'hai assaggiata? Non mi capisco Ilà Ilà Tuzucco L'hai assaggiata? Sì sì Buono? Buono 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 Ragazzi Un attimo solo Stacca tre secondi Perché andiamo Che c'è il direttore noto Stacca un secondo Grazie Ipercoppe Zumban Una bella Una grande realtà Grazie al direttore Noto Per averci fatto entrare No Si immagina È un piacere Avervi qui con noi Oggi abbiamo aperto Questa struttura Diciamo che La terza su Cosenza Sotto il marchio Coppo Anzi Ipercoppo Per aspetti dimensionali Appunto Racchiude moltissimi prodotti Anche non food Siamo veramente orgogliosi In quanto realtà calabrese Che ha rilevato Da una multinazionale Un punto vendita E ha mantenuto Il livello occupazionale E sta cercando Di tenere ancora Diciamo Il livello occupazionale Un po' in tutta la Calabria E siamo veramente contenti Anche della risposta Del pubblico Che stamattina ci ha dato Perché come potete far vedere Dall'immagine Diciamo L'ipermercato È stracolmo di gente E quindi siamo veramente felici E contenti Un po' tutti Io ringrazio ufficialmente Un po' tutti i miei collaboratori Tutti i ragazzi Che veramente hanno dato L'anima Affinché questa operazione Si potesse aprire Nel più breve tempo possibile E speriamo che la gente Diciamo I nostri consumatori Saranno I nostri clienti Saranno contentissimi Di questa riapertura A marchio Coop Un marchio Che è la tradizione italiana È un marchio Che ha la qualità italiana Che ha La La bellezza Anche italiana Per cui Siamo veramente felici E le immagini Che abbiamo Abbiamo filmato Proprio all'apertura Abbiamo messo Tanta gente Condenta Di fare la spesa Veramente Abbiamo registrato Queste emozioni Belle e divertenti C'è anche L'azienda Muraca Che è il nostro partner Nella trasmissione Lei potrà vedere Sicuramente Ma si vede Chiaramente La gente Bella e divertente Che viene a fare la spesa Evidentemente Evidentemente Sicuramente L'Ipercop Veramente Ha lavorato bene E lavora bene Quindi complimenti Direttore Spero di riuscire Ad avere La possibilità Di venire In tutti Piano piano Vediamo cosa fa Piano piano Non le potevo rubare Adesso la promessa Grazie Grazie In bocca al lupo Grazie Per la cortesia Grazie Ah sì Io Allora Continuiamo Tu dici Vieni In fondo a sinistra Ragazzi Buongiorno 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 Vabbè Facciamo una cosa Ragazzi Io mi sposterei Adesso Oppure più tardi Oppure pomeriggio Mi sposterei Proprio al Bancone Si dice Lo stand Lo stand Lo stand C'è chi sa poco Italiano Lo stand Dell'azienda Muraco Ci vediamo più tardi Ci vediamo Fra un secolo Ma siamo già in onda Ah già da là Però io mi sono Tanto attento Con questa mano Che mi do una mano Immersa Come state Come state Che meraviglia I nostri amici Dall'espeditore Che ci seguono E ci seguono Si tranquillo Ivan Il nostro produttore Che ci segue Sempre Tocco gli occhiali Signor Buonasera Come state Tutta a posto Fammi be Fammi be Faccia la vita No faccia la vita Faccia la vita Elena ha assaggiato Presa diretta Io non l'ho assaggiato Io la faccio io Personalmente Bravissima Faccia un paragone Assaggi questa E assaggia la sua E vedete qual è più buona Meginece C'è Sei vicino Meginece Meginece Buonasera Come stai? Meginece Salve Buonasera Il pubblico della Calabria Non solo Se la ricorda Giorgina 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 Ti andai tu con la stessa Sarzo È ovvio Si è fatta più bello Lo sai Grazie Che fai di bello Ma A spasso Prego scusateci Scusateci a noi Che noi stiamo Stiamo montando Stiamo montando Perché quando si monta Si monta Quindi Giorgina ci seguici un pochino Stai con noi questi altri 20 minuti Perché abbiamo intervistato Il dottore Noto Stiamo facendo queste due trasmissioni Sperando che ci sia un seguito Per quello che noi riusciamo a fare Asassalano Ragazzi Asassalano Vediamo se Asassalano Ivan Ragazzi Ivan Che è il terribile lo chiamano L'ultimo Dell'azienda Muraca Come va Zio Fate cercare Si è imposto Che appare Che hanno gli uomini Stiamo montando Stiamo montando Stiamo montando lo stand Ciao come stai Bene grazie Lei fa parte Guarda che bel sorriso Anche perché la mezza No la mezza A me mi ha sempre accolto Alla grande Quindi via la Calabria Guarda qua ragazzi Vuoi fare un saluto? Salve Mi potete il volantino? Salve Le belle si devono farvele Tu sei bella e ti fa vita Grazie comunque Dai ragazzi Allora Siamo qua all'interno Buonasera Avete Che bella spesa ragazzi Si sposa Come stai? Lui è un altro imprenditore Però un'altra cosa con Giorgia Un'altra cosa Guarda quanto è bella Giorgia Allora Vediamo di riuscire a capire Lei è di qua? Di la mezza Di la mezza Ragazzi La mezza lo dico con tutto il cuore Mi ha sempre Come la Calabria Ma la mezza in particolar modo Quando ero un'altra emittente Veramente grande Gioia davvero Lo dico con grande È la verità È la verità Allora ragazzi Ma che stai comprando? Che stai comprando? Che stai comprando? Signo Solo su fammi vedere I boccacci Guarda la sbonna Ma che stai Tra poco facciamo gli assaggini Facciamo Allora ci spostiamo Un momentino Vieni Vieni Giorgia Guarda Giorgia Ragazzi siamo Benedica Come vi trovate Ragazzi Buonasera Come sta? Benissimo Oggi è la prima giornata Di questa grande riapertura Della coppa Prego signora Prego Te ne ha freddo Comparo E quindi Giustamente È giusto Lei che cosa sta comprando? La c'è la salsa da la nonna Avete provato la nonna? No Ora la vado a prendere una Andiamo a prendere Bella del sì Bella del sì Aspetta Vieni Bella del sì Guarda che meraviglia Avete Hanno sbonnato Oh supermercato Buonasera Oh no Bellissimo Che significa il signo? È il mio cane Il cameraman Va bene No Cameraman Tu sei il cameraman Non è che sia un cane Con rispetto L'aspetto dei cani Cioè La sassata La nonna la avete provato? No Perché una prova? Due sorelle Sì È mia mamma Che meraviglia Hai fatto una job Per fare un complimento Allora ragazzi Andiamo a assaggiare La nonna È Possibile con la provata? È Vivo sempre È La televisione Sulla? La C Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Chi è? La ragazza Ragazza Eh Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Fatti una buona spesa ragazzi Che meraviglia Dove è andata? Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Ti prendi per la coda E lo prendi per la coda E lo prendi per la capizia Che stai comprando? Non ti lascio niente La so Te la ricordi a Giorgina? No Non la conosco Piacere E lo prendi per la coda E lo prendi per la coda Questi capelli lunghi Vieni qua Vieni qua Signore Passate Aspetta Non ti muoble Passate Signore Passate Che avete comprato Un albero Avete comprato? Un albero in realtà Signore Allora ci sarà una buona C'è una novità Comunque a Caglio Fate Aspetta Votate 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 Allora signore Quando inizia pronta È mezzogiorno E non parto Non parto Però parto Aspettate Noi cara signora Verremo nelle vostre case A fare anche Nei supermercati Nei supermercati Anche nei supermercati Nei ristoranti Nelle cantine Nelle trattorie Nelle case A fare il piatto di gigliotti Voi ci invitate Certo Di dove siete voi? Di cos'è Di qua Io Castroliber Castroliber Siamo vicini Sì E poi Sì E quindi voi ci invitate Per esempio Un piatto che ci suggerisce Qua Sì La nonna Chiaramente Che cucina stasera No io veramente Stasera mangio solo pesce 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 Anche lei No Io ho fatto Parmigiano di zucchine E per come me Porno E per come me Stasera Parmigiano di zucchine Innamorate E invece pesce Che pesce mangia lei Pesce Sparato Pesce Sparato Ma se l'ha comprato Se l'ha comprato Però c'è signor C'è uno pesce Che è un litione E che pesce è? Un litione Ti piace che pesce è un litione Tu non ne guarda un litione C'è il grande Per Francesco Un litione Che sarebbe la spatola Ah Spatola Che buona Ciao ragazzi Mi sei invecchiato Come si è antipatico Come si è antipatico Perchè mi dico così Sei ingrassato Un po' si è ingrassato Le anni passano Per tutto Però sono sempre affascinante E certo Finisce Come si è invecchiato Ma si è affascinato Diccelo però Un uomo brizzolato Sembra più E che ti va? Su te Fai la spesa Ti fanno arrangiare No no Ma che sta portando Uno muerto Sta portando Io amore Ciao Quando vai in onde Signore Ogni giorno Alle 15 Sul canale Non ci avete mai visto Sì? No veramente Io vado sempre La c'è Ci seguo Ma certo Ogni tanto passa Quando c'è la pubblicità Di uomini e donne Ti ho detto Alle 15 Ci sono Nel donna Quando vai in onde Ti è toccato le botte Alle 15 Invece ti vede l'uomini A trasmissione Che lo diciamo A trasmissione Ti vede la gigliotta Perché là Ti può vedere sempre A chi era che ha ciancia A chi era Ma chi era il barbara rosso Che ha ciancia No quell'accia A chi era A gemma Eh Gia che non ha fatto I gemmi No Le gemme insomma Sì sì Le gemme Chiamone Ciao belle Ciao Ciao zizia Chiamone Seguitemi Seguitemi Però ragazzi Non approfittatene Perché insomma Potete dire Sono invecchiato Però sei sempre Sei sempre Affassinante Vecchiaticimolo però Se no ragazzi Come state Seguitici sempre ragazzi Seguitici sempre Sempre Perché Facciamo No no signor Non vi diciamo Guarda come è bello Su bambino Che è un bambino Non è Non è un bambino È Nucavaggio Ha detto Buongiorno Buonasera Ritorniamo A questo grande stand Bello Siamo sempre Oh ragazzi Guarda qua Guarda qua Guardate i prodotti Della straordinaria In cinque minuti Quando uno vuol lavorare Lavora Guarda qua che bellezza Questi prodotti Li avremo di nuovo Con Grazie a Dio Al pronto E mezz'oglio Tu ci hai seguito Eh sì Ma non Questa parte La sono dimenticata Certo che vengo Guarda che meraviglia Che cos'è Que Ecco Questa è la famosa Bomba Ogni giorno alle 15 Riccignò Guarda qua Questa è la bunga 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 Questa è la C'ha due funzioni Che è molto saporita Piccantissima A chi ci vuole male Si inserisce Non lo diciamo dopo Però vieni qua Facci un saluto Ti posso dire una cosa Sei una ragazza Meravigliosa All'inizio della trasmissione Sei bella Sei bella e brava E molto professionale Ragazzi Buon lavoro Dai Grazie Dai un saluto A tutti i nostri spettatori Siamo in onda Ah Eh Poi via Bene Ogni giorno alle 15 Facciamolo insieme Sì Poi Inizierà Per mettere Signora Di sabato e domenica Cioè inizierà Riprenderemo Mamma mia Come ci capiscione Va bene dai Ciao bella Salve Complimenti e buon lavoro Grazie Di cuore veramente Sei una bella persona Il tuo fidanzato No 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 Tu non sei fidanzato No sono single No sono single Felicemente I single sono tutti Felicemente Tu sei fidanzato No assolutamente Ma che fidanzato fai Siamo single Allora quanto abbiamo 5 minuti Io me ne ritornerei Da dove siamo venuti Sì Tutti in basso E' là E' là E' là No è là E' là Basta poco Ah ho vede Però usare Signorina Andiamo Signore Signore La bellezza Di questa L'eleganza Di questa signora Lei ci segue ogni età Sempre Sempre Perciò sorride Il sorriso Aiuta a vivere meglio La salsa No L'assaggiate questa Questa La salsa Chi d'è questa La invitiamo La proviamo Provate Un bello spaghetti Ahia Pure uno scaffetto No No Se no Devi bere un fusillo I fusilli Basta poco E salsa salsa Venite qua Venite qua Venite qua Non mi veniva Che sto mangiando Sto granchiando Non mi preoccupare Allora voi siete belli Voi ci seguite Sì Che bello Allora vediamo Uno dove c'è Pasta poco Grazie E su casa E diciamo Lo bello bello Però Sì Chiamami Chiamami Chi fa Quei schiattici Che terminano Scopri In gioco Pasta Pasta poco E su casa E che Diciamo Ragazzi Che meraviglia Allora Da questo Noi Che Vedete qua Vedete qua Vedete qua L'eleganza Il sapore Venite ragazzi Venite Vediamo Vediamo A modo interrogo Erri Erri Errisci Errisci Grazie Grazie Venite 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 La gustate E la gusto Venga qui Ci faccio Una testimonianza Lassa Su camere Tiene un camere E mette un carrello Mi dico Buonasera Lei l'ha assaggiata Sì sì Buonissima Come è Buonissima Che gusto ha Come è fatta in casa Testimonianza Lo diciamo fino alla noi Testimonianza Autentica Vieni che salutiamo ragazzi Ci rivediamo la prossima volta Abbiamo due minuti ancora E basta Sinchini stamattina Che stai registrando Ciao belle Ciao A corta di fidanzate Sì Lo dico A riparcivo Asciuti Sì sì Rivertiti Rivertiti Vabbè Viamone Ah ragazzi Aspetta Aspetta Guardate che bella Addirittura Nei prodotti Della azienda Muraka Vediamo Se sapete Che si chiama Come si chiamano I castagni Castagni In dialetto Come si chiamano I castagnoli No I castagnoli Sono boom Brava Vieni qua Vieni qua Vieni qua La mezza vince Vieni 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 Attenzione Vieni Vieni Lo sapevi Perché Sei Li conosco Che si chiamano Le pastiglie Però Bistigge Allora Come si cucina Vediamo Un minuto Una ricetta In pentola Con l'acqua Brava Ed è Veramente Una scusatezza Ragazzi Se vi è piaciuta La puntata Ditelo Se non vi è piaciuta Facetevi Fate voi Mi voglio bene Ciao Alla prossima Vieni Vieni Salutati ragazzi Tutti quanti insieme Tutti i giorni alle 15 Sul canale Di Giannove Possibilmente anche sul canale Di Giannove Sempre sul canale Di Giannove Ciao belle Ciao Buonasera Con questa Chiudiamo A domani Allora e quindisi Sul canale Di Giannove Ciao ragazzi Allora e quindisi Allora e quindisi Allora e quindisi